Mi piacerebbe stare qui. Posso pagare in anticipo. È sicura di essere solo alla quindicesima settimana? Tra un paio di giorni si sentirà meglio. Non esiste nulla di più misterioso del sangue. Chi l'ha autorizzato a fare quei test? Dice che non ci sono rischi. Ci sono sempre dei rischi, non importa quello che dice. Cosa sono quei disegni? I poeti scrivono quello che vedono. I pittori lo dipingono. Io peso e misuro ciò che mi interessa. Idraele informa che la caccia all'uomo è appena cominciata. Lei è Nora, la fotografa. Piacere di conoscerla. Sorridete? Quella fotografa. Possiamo fidarci di lei? Molti dicono che il fioro non è morto. Io non ho paura di niente. Ma! È qui. È lui. Lo voglio fuori da casa mia. Qui non sei più al sicuro. Chi è? Hai in mente di morire presto? Non ancora.